Nuove fasce in discussione, nuovo decreto che ancora non arriva domani, il Consiglio dei Ministri che stabilirà insomma quali saranno le novità relativamente al nuovo Green Pass, soprattutto per i locali al chiuso e i parametri che insomma continuano a destare un po' di preoccupazione, basti pensare che per il passaggio alla zona bianca il numero è quello dei 50 casi ogni 100.000 abitanti e se così fosse, quindi se il governo non cambierà i parametri, nel weekend mezza Italia dovrebbe passare in zona gialla, ma così non sarà perché insomma è atteso questo decreto del governo che dovrebbe poi entrare in vigore lunedì. La conferenza Stato-Regioni ha fatto le proprie proposte all'esecutivo soprattutto per quanto concerne la percentuale di terapie intensive, occupazione al 20%, 30% per le aree mediche, vedremo insomma se l'esecutivo Draghi accoglierà le istanze avanzate dal presidente della conferenza stessa, il governatore del Fiuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Ne parleremo nel corso del telegiornale per cercare di capire anche com'è l'andamento in Fiuli Venezia Giulia, una cinquantina di casi oggi e in Veneto oltre 600.000 casi in due giorni. A proposito di Variante Delta, in nostra compagnia anche il presidente dell'ordine infermieristico Luciano Clarizia e avremo anche in Veneto un ospite che insomma manifesterà insomma il non proprio diciamo così convincimento alla vaccinazione. Ma ne parleremo, seguiteci ovviamente, tanta cronaca, linea subito ai colleghi per i saluti iniziali, si torna e si comincia tra poco. Un cordiale saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste, tante anche oggi le notizie che approfondiremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Tratteremo il tema dei patugliamenti congiunti tra Italia e Slovenia al fine di fermare gli immigrati clandestini che cercano di superare il confine. Tratteremo poi anche un intervento di soccorso che ha coinvolto un turista del Lazio che durante un'escursione si è provocato delle gravi lesioni in volto e traumi vari in diverse parti del corpo. Si presume anche un arto rotto. Tratteremo poi la vicenda legata a un ungherese di 58 anni che è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso e per porto ingiustificato di armi. Tante anche le notizie che tratteremo nel corso dell'edizione riguardante il Friuli Venezia Giulia. Ma prima di proseguire linea al collega del Veneto per i saluti. Gentili telespettatori, un saluto anche dalla redazione di TPN Veneto. La notizia del giorno, una nuova tragedia sul lavoro, una vittima giovanissima a Ponte della Priula. Una frazione di Susegano in provincia di Treviso indagano i carabinieri di Conegliano. Anche oggi notizie di incidenti più o meno gravi sulle nostre strade. Parleremo poi di alcuni interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Vicenza. Chiuderemo con qualche notizia sportiva in attesa della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che stanotte si sono aperti alcuni tornei, tra cui softball e calcio femminile. Nel softball il debutto della Nazionale Azzurra che ha perso per 2-0, giocando comunque un'ottima partita con gli Stati Uniti. Per il momento è tutto. Restituiamo la linea alla redazione centrale. Grazie ai colleghi. Tragedia sul lavoro dunque a Ponte della Priula muore un giovane. Tragedia sul lavoro a Ponte della Priula. Giovane precipita da diversi metri e perde la vita. L'infortunio, che ha visto come vittima a Ziz Diop, operaio senegalese di soli 24 anni, è avvenuto poco dopo le 12.30 nelle Fornaci Grigolin, in via Ex Bombardieri, nella frazione di Susegana. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo sia caduto da un parapetto di un forno, da un'altezza di circa 10 metri, mentre stava facendo le pulizie con una scala in un silos della ditta. Intuendo la gravità del fatto, i colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi e prestato al giovane le prime cure. Subito i sanitari del Suem 118 sono arrivati nello stabilimento con l'ambulanza e l'elisoccorso dall'ospedale Caffoncello di Treviso e hanno tentato di rianimarlo per quasi mezz'ora, purtroppo senza risultati. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Conegliano, la polizia di Stato e lo Spisal, servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare se la caduta sia avvenuta per via di un malore o di una manovra errata. E non si esclude che la procura disponga l'autopsia sul corpo del 24enne per chiarire le cause del decesso. Cordoglio e Sgomento nella marca trevigiana per la morte di un 17enne a seguito di un terribile incidente stradale. Gravissimo incidente stradale mortale ieri sera a Ormelle in provincia di Treviso. Un ragazzo di 17 anni, Simone Perin, residente nella vicina Ponte di Piave, ha perduto la vita. Lo scontro con un'auto, una Kia e la sua moto è avvenuta verso le ore 17, nella frazione di Tempio all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del suo M118, ma per l'adolescente non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati operati dai carabinieri della stazione di Susegana, compagnia di Conegliano. Lo strazio e la perdita dei familiari hanno indotto i genitori ad accorrere sul posto. Hanno atteso tre ore prima della rimozione della salma, scatenando le proteste di tutte le persone che erano lì. Diamo una notizia perché a Erto e Casso, un turista bellunese, è rimasto ferito nei pressi di Passo Santo Svaldo. L'uomo ha rimediato un trauma facciale, diverse escoriazioni. È stato soccorso dal SUEM di Pieve di Cadore, assieme alla collaborazione con il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Incendio invece questa mattina a Porcia, nella ditta Gruppo Prisma, azienda specializzata nella lavorazione della lamiera, ha danneggiato un macchinario laser. A scatenare le fiamme, attorno alle 10, la caduta di un materiale incandescente sul tappetino di gomma su cui poggiava l'apparecchiatura in questione. Il personale che si trova all'interno dell'azienda ha provveduto a domare il fuoco con l'estintore, allertare poi i Vigili del Fuoco giunti sul posto per terminare l'intervento e per eseguire i controlli. Non ci sono stati feriti. Ancora un incidente lungo la Triestina Bassa. Torniamo in Veneto tra i feriti una bambina di 5 anni. Ancora un incidente stradale sulla strada della morte. La Triestina Bassa è stata teatro, infatti, di una fuoriuscita autonoma. Una scoda Octavia con una famiglia di svedesi, padre, madre e bambina di 5 anni, è finita contro un albero in località Viola. La Triestina Bassa in un mese ha prodotto tre morti. Due ragazzi di origine sudamericana residenti a Pasiano il mese scorso e Tiziano Masiero, i cui funerali si svolgeranno a San Giorgio di Livenza nel pomeriggio di venerdì. Il ragazzo della salute era mancato venerdì scorso. Problemi dunque di tenuta, asfalto così così, strada stretta, velocità, colpi di sonno. Stavolta gli svedesi se la sono cavata con ferite, lievi ed escoriazioni. È un grande spavento per la bambina di 5 anni. La vettura è stata recuperata dal soccorso stradale Vancaro. Parlavamo prima di un incidente in montagna, a Erto e Casso, un altro sulle montagne friulane. Ce ne parla nel prossimo servizio il collega della redazione di Udine. Stava scendendo assieme al compagno una parete rocciosa in un'escursione quando a causa di un cedimento di un sasso sotto i piedi è caduto procurandosi un trauma facciale e altri traumi con sospetta frattura di un arto. Vittima dell'accaduto un escursionista ultra sessantenne del Lazio. L'uomo assieme all'amico si trovava nei pressi di Forcella, Rio Freddo, nelle Alpi Giulie. A quota 1.850 metri. Tuttavia i soccorsi per identificarli hanno impiegato circa 40 minuti di ricerca dopo la chiamata al 112. Questo a causa delle coordinate non precise che gli sono state fornite perché i due escursionisti indossavano abiti neutri e poco visibili. A ciò si aggiunge che al primo passaggio dell'elicottero i due non hanno fatto alcun segnale di richiamo visibile dall'alto. Trascorsi i 40 minuti sono finalmente stati individuati e i tecnici dell'elisoccorso regionale hanno provveduto a calare con una verricellata di 60 metri il tecnico di soccorso e un soccorritore della stazione di cave del predile presente a supporto delle operazioni di ricerca a Malga Gran Tagarre. Le operazioni di recupero sono state frenate anche dal fatto che i due soccorritori hanno impiegato del tempo a mettere in sicurezza il terreno circostante in quanto molto franoso e pericoloso per il recupero. Terminate le operazioni di messa in sicurezza è stato calato il medico che ha stabilizzato l'uomo ferito e imbarellato al fine di imbarcarlo. Il suo compagno è stato invece escortato a piedi dal soccorritore della stazione di cave del predile lungo la valle di Rio Freddo fino a raggiungere la strada. L'intervento si è concluso dopo le ore 20. E come detto in apertura è decisivo il prossimo provvedimento che il governo dovrà emanare relativamente alle nuove misure di contenimento al Covid-19. In particolar modo il famoso Green Pass soprattutto per l'utilizzo nelle aree al chiuso dove insomma solitamente potrebbero verificarsi maggiori assembramenti e quindi favorire e potenziare il contagio. Ore di fibrillazione perché bisognerà trovare la quadra. Domani il Consiglio dei Ministri. Oggi la conferenza delle regioni guidata dal presidente friulano Massimiliano Fedriga ha posto le proprie basi e avanzato le proposte. Sentiamo. Revisione degli indicatori delle zone di rischio con l'ipotesi di portare per la zona bianca il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al 30% e quello delle terapie intensive al 20%. È la proposta avanzata dalla conferenza delle regioni al governo sull'uso del Green Pass. Il tutto ha detto il presidente Massimiliano Fedriga in un'ottica positiva ovvero per permettere la ripresa in sicurezza delle attività fino ad oggi non consentite o limitate ad esempio i grandi eventi sportivi e di spettacolo, le discoteche, le fiere e i congressi. Su fronte dei contagi in Friuli-Venezia-Giulia sono 92 i casi in due giorni, il 56% a meno di 29 anni, il tasso di positività è allo 0,75%. In Veneto dopo i 600 casi di ieri altri 455 i nuovi positivi registrati con i tamponi nelle ultime 24 ore. Sulla fronte dei dati clinici negli ospedali ci sono 231 ricoverati nelle aree mediche mentre è stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva con 20 unità occupate. E si ipotizza anche la proroga dello Stato di emergenza sanitaria. Sentiamo. Il governo sta lavorando per varare in Consiglio dei Ministri il decreto legge che contiene le modalità di utilizzo del Green Pass, i nuovi criteri per definire i colori delle regioni la proroga dello Stato di emergenza fino al mese di dicembre 2021. È quanto emerge a seguito della riunione preliminare del Consiglio dei Ministri che si è tenuta a Palazzo Chigi. Il decreto non dovrebbe contenere alcuna norma per quanto riguarda l'obbligo vaccinale per gli insegnanti né per le manifestazioni sportive. Attualmente lo Stato di emergenza è in scadenza il 31 luglio prossimo. La proroga dovrà essere disposta dal nuovo decreto. Il provvedimento contenente i nuovi parametri di rischio per le regioni e la disciplina del Green Pass dovrebbe per ora riguardare in qualche modo tutti gli ambiti tranne scuola ed eventi sportivi. Non sarà dunque la Presidenza del Consiglio a valutare l'eventuale obbligo di vaccinazione per i docenti nelle altre disposizioni per la ripresa dell'attività scolastica. All'ultimo minuto però potrebbe sempre intervenire Draghi. Rimaniamo in tema, andiamo in Veneto dove dovrebbe esserci l'ospite in compagnia di Rosario Padovano. Vi vedo e vi cedo la linea. Grazie, abbiamo invitato anche il presotto, Liga Veneta Repubblica. Lo Stato italiano vuole prolungare il periodo di emergenza fino a dicembre 2021. Con la Repubblica Serenissima sarebbe mai accaduto? Con la Repubblica Serenissima abbiamo affrontato la peste e come diceva qualcuno dicevano che avevano fatto più morti la paura che la peste in se stesso. Proprio per tornare anche un attimino a quello che sta succedendo oggi. Io sono stato comunque accusato di essere un Novax e allora questo mi preme un attimino, vorrei prendere l'occasione per far capire a tantissima gente la differenza fra il Novax e avere almeno un po' di attenzione per capire dove sta andando questo sistema, diciamo, del vaccino. Perché il vaccino in se stesso sappiamo... No, no, hai presotto. Lei è contro i vaccini? Non sono contro i vaccini. Io sono contro questo vaccino perché, come ho detto a tanti, io non ho paura a dirlo, abbiamo dei timori, abbiamo delle titubanze, ma proprio portate anche dal fatto che noi, siccome ci informiamo, abbiamo anche delle testimonianze che non proprio non sono positive. Ripeto, noi stiamo molto attenti, stiamo valutando, io e anche moltissimi del nostro gruppo, ma anche da parte della mia famiglia, noi prima di fare il vaccino ci stiamo pensando. Avete avuto ripercussioni a livello di infezione? No. No, tutti abbiamo avuto il Covid, tutti, però oggi siamo tutti immuni, abbiamo fatto anche dei test e ci siamo ritrovati che comunque per il momento siamo comunque... Quindi la questione sanitaria a livello di Repubblica Serenissima... No, noi l'abbiamo risolta così. L'avete risolta? No. Ma c'è la Dinovax anche durante la peste addirittura? Ma per carità, io l'ho detto prima e lo sto ripetendo da tantissimi anche su Facebook perché ci accusano di non, appunto, di essere no-vax. Ogni tanto segue Montesano lei? Sì, ho avuto l'occasione. Perché il Dico Montesano si vede chiaramente che è contro il sistema. Certo. Non sto dicendo che è contro i vaccini, ma è antisistema. Lui ogni sera adesso recita una pagina di 1984 di John Orwell, no? La fattoria degli animali. Ha capito? Per cui, voglio dire, anche lui, il celebratore sostiene che si documenta su determinati fatti, conseguenze, eccetera. Quello che è giusto è che tutti dobbiamo fare questo. Non è che perché dobbiamo ascoltare Montesano, dobbiamo ascoltare solo la TV che ci racconta delle cose. Cerchiamo di informarsi. Noi abbiamo delle testimonianze, abbiamo dei medici che comunque hanno aiutato tantissima gente anche durante il Covid. Noi abbiamo degli amici che sono stati curati a casa e ne sono usciti tranquilli, qualsiasi età. Mio padre... È un tema controverso. È un tema controverso, immagino che lei si riferisca anche a quanto fatto nei mesi scorsi dal sindaco Smuschi. Sì, ma non solo lui, adesso c'è un gruppo proprio di medici, ma anche di legali che stanno apposando un attimino questo percorso, perché comunque va salvaguardata la salute. Allora, c'è chi dice no, facciamo il vaccino. Ma poi abbiamo esperienze di chi ha fatto il vaccino, si è ammalato ancora o ha avuto delle ripercussioni. Dunque, io dico sempre, cerchiamo di stare attenti. Non prendiamo tutto per oro colato, anche perché in Italia, io qui devo dirlo, siamo abituati a tantissime situazioni di questo genere. Dunque, io dico a tutti, state attenti, se vi ammalate, cercate di farvi curare a casa. Ringraziamo Ive Presotto per il suo intervento, restituiamo la linea alla redazione centrale. Ovviamente questa è la posizione dell'ospite, che l'ha espressa liberamente, insomma cerchiamo anche di far maggiore chiarezza con Luciano Clarizia, presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche. È chiaro che la vaccinazione, nel caso di dirlo, non è obbligatoria, però insomma è chiaro che è bene riportare le opinioni di tutti, però insomma siamo nel bel mezzo di una pandemia. Clarizia, lascio a lei chiaramente il compito, per carità, anche di controbattere e di esprimere anche, insomma, la sua, più che opinione, anche esperienza professionale in questo senso. Buonasera ai telespettatori, buonasera dottor Conforti. Ma vede, questo è un po' il figlio di tutto quello che abbiamo passato in un anno e mezzo di confronti anche, a mio avviso, eccessivi, tra posizioni sbagliate, poi con questi social che fan passare, ma forse perché serve anche qualcuno a notizie che non hanno nessun fondamento. Io, per la modo di certo, ma io sono per la libertà di pensiero, è corretto che la gente pensa quello che vuole, faccia quello che vuole, però l'importante è che rispetto anche la libertà e la salute degli altri. Allora, è indiscusso che vaccinarsi mette e protegge le persone. Sentivo parlare prima, Montesano dice, insomma, ha parlato, forse, del grande scienziato, del grande, insomma, virologo, dell'esperto. Insomma, sono questi i problemi. Si sta ascoltando troppe persone che in realtà non hanno, a mio avviso, la capacità professionale di esprimere dei concetti corretti. E quello che passa poi alla popolazione è l'errore. Oggi se abbiamo ancora due milioni e mezzo di over 60 che non vogliono vaccinarsi, questo è il problema. Sono le persone fragili, quelle che purtroppo, fra un po' troveremo di nuovo nelle parti Covid, nelle trepe intensive e purtroppo ci metteranno anche la pelle. Allora, non è possibile. Noi siamo arrivati a oggi che abbiamo gli stessi numeri di settembre lo scorso anno, con una differenza, per fortuna, che avendo un buon numero di vaccinati, a mio avviso, non avremo il disastro e le chiusure che abbiamo passato, insomma, nell'anno scorso. È vero che anche chi è vaccinato si può ammalare. Ci manca il vaccino. Non è che non c'è nessun farmaco e nessun vaccino che copre al cento per cento. Quindi c'è sempre una percentuale. Però quando capita, e questo è quello che stiamo notando, quella persona che è vaccinata, sia male, passa senza grosse difficoltà il problema, con qualche giorno a casa, insomma, con qualche sintomo e non è obbligato a ricoverarsi. Questa è la grande differenza. Quindi, capisce, bisogna essere chiari. Sennò la gente effettivamente ha ragione a mettersi paura. Allora, cerchiamo di dire le cose come stanno, cerchiamo di vaccinarci, cerchiamo di finire e uscire, insomma, da questa condizione di criticità, altrimenti veramente rischiamo di ripartire da capo. Bisogna raggiungere quella famosa, insomma, soglia di vaccinati che permette di dire che la condizione, insomma, è tale da essere, insomma, in tranquillità. Ecco, veniamo al nostro territorio. Infermieri sospesi. È un po' la notizia della settimana, una settantina, se non ricordo male. Sette su dieci, no? Leggevo oggi e sono, insomma, anche persone che non si sono vaccinate. Come siamo in termini percentuali? Vedi, anche qua vorrei fare un po' di chiarezza perché sembra quasi che gli infermieri non si vaccinano. Allora, noi in questa destra tagliamento abbiamo 2200 infermieri iscritti all'ordine. 73 di questi risultano, risultano, insomma, da quello che ci ha confermato il Dipartimento di Prevenzione, non vaccinati. Quindi abbiamo preso atto, abbiamo dovuto chiaramente, come prevede la legge, sospenderli. Di questi, le posso dire, guardando l'età una grafica, che il 70% sono pensionati, quindi non sono in attività, quindi non possono assolutamente fare danni a nessuno. Del restante 30%, guardi, io fino a stamattina ho avuto il telefono bollente in questi due giorni perché colleghi che chiamano dal Vento dicendo noi siamo iscritti con voi, siamo in Veneto, vaccinati, risultiamo fra quelli sospesi, ma abbiamo fatto il vaccino. Chiaramente non risultava nella lista del Friuli Venezia Giulia, chiaramente queste persone non fanno altro che comunicare, non hanno aperto la PEC, questo è l'errore che hanno fatto, perché il Dipartimento ha scritto sulla PEC di queste persone ancora da tre mesi a questa parte di verificare la loro situazione. Se non apri la PEC, che è obbligatoria per tutti i professionisti, che è corretto che sia aperta, è chiaro che non hanno risposto e risultano come tali. Ora stanno mandando il certificato, noi prenderemo atto anche di questo, li reintegreremo, ma chiaramente finché sono sospesi, sono sospesi. Insomma, nella realtà poi, chi veramente è infermiere no Vax, mi faccio passare questo a me che poi non mi piace neanche, che non ha voglia di varsi, perché ha dei problemi, insomma, io non lo so, insomma, io questi pseudo colleghi perché poi mi fanno arrabbiare, io capisco la signora Maria o chi mi ha preceduto prima che farà altro nella vita, non è certamente un sanitario, ha questa grandissima esperienza di medicina, che può avere dei dubbi perché sente tutto, ma un infermiere, un infermiere che ha tutte le conoscenze e ancora non si vaccina è un grande problema, è la vergogna della professione. Sono 4, 5, 6, forse 7, questi saranno sui 73 che abbiamo sospeso, i reali, però, 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 anche se fosse solo uno mi fa il nervosismo e mi dispiace, non va bene, bisogna dare l'esempio, altrimenti è chiaro che le persone hanno tutte le ragioni per non vaccinarsi, non siamo noi i primi a farlo e questo è quello che io penso. Grazie Luciano Clarizia per essere stato in nostra compagnia. Green Pass obbligatorio per i lavoratori, una provocazione, dice la CISL del Friuli Venezia Giulia, il segretario generale Alberto Montico, vaccinarsi contro il Covid è una scelta di buon senso e di forte responsabilità che come sindacato sicuramente promuoviamo, da qui però dire che senza il Green Pass non si può entrare in fabbrica, ne passa l'ipotesi di Confindustria di condizionare l'accesso al lavoro ai soli vaccinati non trova dunque sponda nel sindacato. Questa mattina il vice governatore Riccardi alla salute ha incontrato gli studenti del corso di medicina e chirurgia dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e insomma è stata l'occasione per ringraziarli per quanto concerne coloro i quali stanno dando il proprio contributo alla campagna vaccinale e non sono pochi. Chiederemo come gli abbiamo chiesto, mi pare che la reazione sia positiva, di andare a convincere alle persone che la vaccinazione è l'unica vera strada per uscire dalla pandemia, perché dove finisce la libertà di uno non comincia la libertà dell'altro, quindi noi siamo tutti chiamati ad un atto di responsabilità e io credo che questi ragazzi abbiano dimostrato come le nuove generazioni chiamate alla responsabilità a volte siano molto più mature di quelle che noi immaginiamo. Lei ha chiesto loro di essere testimoni della campagna vaccinale non solo quando indossano il camice, ma anche nella vita di tutti i giorni? Diciamo che la parola di un giovane medico, di un giovane informiere, di un giovane professionista della salute che ogni giorno incontra anche le difficoltà che si possono vivere dentro una struttura sanitaria sia una testimonianza importante anche di fiducia e di speranza e quindi io sono convinto che il loro pensiero, la loro voce si debba unire alle voci di tutti coloro che sono impegnati nell'andare a far comprendere, a convincere tutti coloro che ancora sono in qualche modo in difficoltà rispetto a questo tipo di scelta, noi non possiamo pensare di spiegare alle persone che sono ideologicamente convitte di non vaccinarsi che si devono vaccinare, ma gli altri purtroppo hanno subito una condizione anche di utilizzo dei media alla quale abbiamo assistito inguardabile e quindi è anche normale che qualcuno possa essere ancora incerto rispetto a questa scelta e io penso che la testimonianza di tutti noi, in particolare dei giovani che vivono questa esperienza, vivono le difficoltà, hanno visto i malati, hanno visto le persone in difficoltà, sia una testimonianza che potrebbe convincere molte persone a raggiungere quella decisione che io considero la decisione importante, probabilmente la determinante decisione per riuscire dalla pandemia. Ecco noi il professor Guglielmo Cevolin, presidente di storia Limes Club, ben trovato. Buonasera. Attacchi informatici dalla Cina alla Russia e caso Pegasus. Ecco, cambiamo un po' argomento per, diciamo così, uscire anche un po' dai canoni delle notizie di punta del giorno. Beh, ma diciamo che sono cose importanti, perché vabbè, il caso Pegasus è un po' anche a che fare con la libertà di manifestazione del pensiero, ci sono controlli ai giornalisti, ai politici, pro di Macron e poi giornalisti indipendenti e così via. E' una Pegasus, è un programma di una società israeliana che viene utilizzato in vario modo. Il modo legittimo è quello per prevenire il terrorismo, quello per anche ritrovare persone scomparse sotto il crollo di edifici, oppure per contrastare la criminalità organizzata nel mondo della droga e così via. Ecco, purtroppo quello che è emerso da questa indagine, The Pegasus Project, con Amnesty International, delle testate giornalistiche internazionali, è che alcuni stati autoritari o comunque con qualche problema sul versante del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo utilizzano in funzione, diciamo, di repressione della libertà di manifestazione del pensiero e così via. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che l'hanno utilizzato l'Arabia Saudita, l'ha utilizzato gli Emirati Arabi, l'Ungheria, il Marocco, ecco. E quindi, diciamo, sono degli ambiti che così vanno tenuti sotto controllo e peraltro la comunità internazionale su diverse cose sta cercando di osteggiare da un lato per esempio la Russia nel momento in cui per esempio col caso SolarWinds oppure con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, quelle dove è stato eletto Trump, sono everse delle evidenze di coinvolgimento della Russia nel lacheraggio e così via. Lì la comunità internazionale un pochino si è riunita e ha praticamente sanzionato la Russia con delle sanzioni economiche. Invece più recentemente, qualche giorno fa, sono emerse delle dichiarazioni soprattutto degli Stati Uniti che hanno collegato un attacco a Exchange della Microsoft e hanno individuato secondo loro la responsabilità della Cina nel sostenere degli hacker per acquisire dati e così via attraverso Exchange e quindi mettere da un lato in cattiva luce la Microsoft, dall'altro lato acquisire dati dell'Occidente, utilizzarli in vario modo e così via. Ecco, qui c'è stata ancora un'unione abbastanza buona dell'Occidente e ci sono stati i Five Eyes, il Giappone e anche l'Unione Europea che si sono abbastanza allineati, però a differenza della Russia non ci sono state sanzioni. Senta, domani sarà a Carle? Domani sarò a Carle per il premio Papa Hemingway della Vitale Onlus, è un premio che ha come centro la figura di Hemingway perché Hemingway ha utilizzato le installazioni diciamo di caccia vicino Caorle per sfogare la sua passione per la caccia e anche c'è l'Ill, uno dei luoghi dove ha anche scritto alcuni saggi, alcuni invece saggi giornalistici oppure invece anche pezzi di romanzi e così via e quindi è lì che si celebra questo festival a Carle che è diverso da quello di Lignano e molto incentrato sull'informazione e infatti io farò una relazione come collaborazione di storia al premio Papa Hemingway sull'intelligenza artificiale e i social media. È un bel argomento, magari ne parleremo anche nel corso di qualche nostro telegiornale. Sì, sì. Nei prossimi edizioni. Grazie all'avvocato e al professor Guglielmo Cevolini per essere stato in nostra compagnia. Al via nei prossimi giorni pattugliamenti congiunti tra Italia e Slovenia al fine di fermare i flussi per quanto concerne la famosa rotta balcanica, quindi dei migranti. Nei prossimi giorni, come annunciato dal questore di Trieste, Irene Titoni, ripartiranno i pattugliamenti congiunti tra Italia e Slovenia lungo la fascia del confine. I controlli potranno risultare un utile strumento per frenare gli ingressi dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. L'aspetto burocratico è già stato formalizzato dalle istituzioni competenti. Si attende ora la conferma di Lubiana al fine di perfezionare l'accordo per poi procedere con l'attualizzazione del piano. A confermare l'aumento degli arrivi dei migranti sono i dati. Infatti da gennaio si è registrato un incremento del flusso migratorio di 100 unità rispetto allo stesso periodo nel 2020. Sul tema Marco Dreosto, europarlamentare coordinatore regionale della Lega Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato che con l'avvio dei controlli è necessario essere il più rigidi possibili per frenare gli ingressi degli immigrati clandestini in regione. Ha inoltre sottolineato che la Lega è sempre stata favorevole ai pattugliamenti congiunti e quindi a fornire più strumenti e tutele per la polizia. Questo nuovo accordo pertanto potrebbe essere l'inizio per la realizzazione e l'istituzione di un grande rapporto di collaborazione tra le due vicine realtà. Il Comune di Pordenone ha pubblicato sul proprio sito internet le tavole degli otto progetti del concorso di idee per realizzare la nuova piazza di Borgo Meduna. Chiunque può consultare gli elaborati e inviare i contributi. A Borgo Meduna una vera piazza non c'è, ha spiegato il sindaco Alessandro Cigliani assieme all'assessore Cristina Mirante. C'è solo una rotonda che interseca cinque strade per cui i residenti hanno sempre sentito la necessità di una piazza creando aree verdi e spazi comuni. Quell'area potrà avere una nuova dignità perché il concorso di idee si chiedono perché non si tratta di progetti calati dall'alto ma appunto di idee da cui partire per confrontarci con la comunità. Gianni Zanolina è invece candidato sindaco a Pordenone. Parliamo di Torre Zanolina anche per cercare di capire quale futuro si può dare a quest'area cittadina. Il futuro di Torre è molto interessante perché è un'area giusto a mezzo fra Pordenone e Cordenone quindi è un'area cruciale ed è evidente che è anche un'area molto interessante da molti altri punti di vista storico ad esempio con il castello e tutta l'area dei resti romani e anche ambientale una zona di straordinario interesse da questo punto di vista. È stata sottoposta negli ultimi due anni a una grave stress con dei lavori che si sono susseguiti il più importante è quello su Via Piave. L'impressione che hanno dato e come dire questi lavori è di un livello di progettazione davvero insufficiente. Abbiamo visto rincorrersi interventi, ripetersi interventi e soprattutto una scarsissima programmazione degli stessi. Ci sono alcuni nodi ancora oggi risolti, l'incrocio fra Via Piave e Via Zara in particolare. Questo è come dire un focus molto importante anche perché da qui a poco dovrebbero partire i lavori per la nuova scuola Media Lozzer che si trova proprio in quel luogo. Allora sommare un ulteriore cantiere al cantiere resistente e ancora più in una zona così delicata evidentemente crea o almeno ci fa temere che ci siano ulteriori gravi disagi. Il sindaco Ciriani dice oggi in un post su Facebook che questi disagi e questa situazione difficile è legata al Covid. Francamente mi aspetterei qualche spiegazione più importante e anche più capace di dare soluzione ai problemi perché se fosse solamente questo non si capirebbero tante incertezze nei lavori e soprattutto non si capirebbe come si sommino in questa maniera francamente molto discutibile problemi a problemi. Ad esempio da molto tempo si dice che in un'area di proprietà della parrocchia di Sant'Agostino dovrebbe essere realizzato un parcheggio ma ancora oggi noi non abbiamo nessun progetto e ricordo che un progetto è fondamentale per portare da portare in consiglio comunale anche per costruire una variante al piano regolatore perché oggi l'area ha tutt'altra destinazione ma ricordo altresì come dire che i tempi per una variante per ascoltare tutti i residenti della zona perché ovviamente saranno certamente interessati a quello che si vuole è molto da fare mi pare di capire. E io credo che la situazione possa presentarsi difficile insomma di qui a non molto e credo che come dire si siano fatte le cose in fretta e si siano fatte male con un livello di progettazione davvero molto basso e questa cosa si somma poi al discorso che viene ripetuto continuamente secondo cui a Torre nulla è stato fatto prima di adesso. Guardate io ricordo solamente poche cose di Torre, il restauro del castello, la casa della Contessina in centro, la scuola materna, gli impianti sportivi, l'immaginario scientifico, cioè non è che prima di Ciriani non sia stato fatto nulla, è stato fatto molto a Torre come in tutta la città. Teniamo conto di queste cose, teniamo conto che non si tratta di zone abbandonate, si tratta di zone dove la gente è stata ascoltata, probabilmente se noi riuscissimo ad ascoltarla sempre eviteremo anche gravi errori. E ci torneremo affrontando magari proprio con il sindaco stesso, magari a stretto giro di ore il tema. Grazie Gianni Zanolin per essere stato con noi, andiamo ora a Udine con il sindaco di Tricesimo in compagnia di Edoardo Anese. E in nostra compagnia Giorgio Baiuti, sindaco di Tricesimo, buonasera sindaco. Buonasera. Problema all'ordine del giorno, l'installazione di un impianto fotovoltaico in una zona che non si presterebbe, non consona? No, ci è capitato proprio fra capo e collo, ci è capitato perché la cosa riguarda geograficamente, cioè territorialmente il comune di Tricesimo, però una zona che è al confine con il comune di Tavagnaco. In una zona che è tutelata sul piano paesaggistico, ambientale e anche culturale per la presenza di diverse emergenze storico-architettoniche, è stata presentata da parte del gruppo Falk, che è uno dei grandi gruppi che si occupano di energie rinnovabili nel nostro paese, un progetto di costruzione di un parco fotovoltaico su una superficie molto ampia, oltre 12 ettari, quindi oltre 120 mila metri quadri di terreno, questo progetto sul quale si sono espressi i due comuni, sia Tricesimo che Tavagnaco, con un parere negativo. abbiamo avuto anche il supporto e la contrarietà anche di Lega Ambiente e Italia Nostra, che al pari dei due comuni hanno valutato come negativa l'individuazione di quell'area, proprio perché è prossima all'area del Cormor, al parco del Cormor, ed è inserita in un contesto ambientale e paesaggistico molto significativo che riteniamo debba continuare ad essere tutelato nei modi dovuti. Ma come vi muoverete se i lavori invece continueranno, non verrà accolta la vostra richiesta di dismissione? No, noi abbiamo questa preoccupazione, cioè la legislazione attuale, che è una legislazione nazionale, non è neanche regionale, consente ai gruppi che propongono questi tipi di impianto ed è successo anche in altre realtà del Friuli, con proteste di altri comuni, la possibilità di approvare dei progetti di parchi fotovoltaici che vanno al di sopra di quelle che sono le normative edilizie urbanistiche dei comuni. Sostanzialmente l'approvazione del progetto di parco costituisce una variante al piano regolatore del comune interessato. Noi ci auguriamo che la Regione, peraltro, che può fare qualcosa, sottoponga a valutazione di impatto ambientale il parco, ci sia una possibilità di pesatura, di valutazione, di considerazione nel merito di questo progetto, perché si possa fare in modo che la realizzazione di un parco di queste dimensioni possa essere realizzato in zone paesagisticamente e ambientalmente meno significative di quella della nostra realtà. Tricesimo è coinvolto anche da un'altra problematica legata alla viabilità, parlavamo prima circa 20 mila mezzi che passano la via. Purtroppo Tricesimo è una cittadina molto accogliente, a pochi chilometri da Udine, è il primo centro urbano che ha caratteristiche proprio di piccolo centro urbano a nord di Udine, però ha anche un handicap che non è ovviamente di oggi, diciamo così, da decenni, che è quello dell'attraversamento della strada statale Pontebana che intaglia in due la località, a fronte di bellezze pasagistiche, colline, parchi, soltanto di parchi urbani, diciamo così, le aree verdi del comune di tipo comunale sommano circa a oltre 100 mila metri quadri, a 10 ettari, però c'è questo problema della viabilità che veramente anche adesso che i volumi di traffico sono ritornati alla situazione pre-Covid, appunto come si era detto, in base ai rilevamenti statistici che abbiamo fatto, siamo intorno ai 20 mila veicoli al giorno e ai 5-600 tir al giorno, quindi è un volume di traffico assolutamente insostenibile, rispetto al quale crediamo che debbano essere adottate delle misure alternative. Esiste un progetto da diversi anni di possibile tratto di variante a est che consenta quantomeno di dirottare anche una parte del traffico pesante e quindi alleggerire un po' il peso di smog, rumore e anche insalubrità che nasce da questo volume di traffico veramente pesante. Bene, allora noi ringraziamo il Sindaco Baiuti per essere stato con noi questa sera, grazie Sindaco. Grazie, grazie a voi. E linea che può tornare a Pordenone. Siamo con Valerio Dalle Frante che è cagnato Sindaco a San Vito al Tagliamento, ma sentiamo a parlare il Sindaco di Tricesimo, ma in precedenza anche questo concorso di idee che riguarda Borgomeduna a Pordenone, il coinvolgimento dal basso dei cittadini. Sente tanto parlare insomma, ormai da tempo anche di questa terminologia anche. Che cosa ne pensa e soprattutto parlando di San Vito, quali punti principali su cui bisognerà intervenire? Ben trovato, ben trovati anche ai telespettatori. Sentire parlare di concorso di idee a Pordenone sul rifacimento di una piazza a San Vito è fantascienza, nel senso che proprio tutto quello che è stato fatto, specialmente nei dieci anni di mandato di Biceglie, ma anche prima, è stato assolutamente calato dall'alto. Ultima vicenda quella della piazza di Ligugnana, una piazza che dall'oggi al domani si è scoperto l'amministrazione comunale volesse rifare completamente, i lavori sono ancora in corso, il progetto è stato presentato alla bella e meglio all'ultimo momento a commercianti e neanche residenti, quindi noi amministratori siamo l'ultima ruota del carro giustamente, quindi figuriamoci se in commissione si va a analizzare, si va a chiedere magari anche, non dico un concorso di idee, ma un parere di massima, questo credo che sia il minimo sindacale. Quindi a San Vito c'è tanto da fare da questo punto di vista, c'è da aumentare sicuramente la partecipazione, c'è da ristabilire, ricreare un rapporto tra l'amministrazione comunale e i nostri concittadini, perché in questi anni veramente si è toccato, si sono toccati livelli molto molto bassi in questo senso e credo che sia ora veramente di dare un taglio a certi atteggiamenti, a certi comportamenti, a certi modi di fare e cominciare un'altra storia. Ecco, visto anche insomma le ultime vicende alla LEF di Ponterosso, insomma parlando anche di supporto alle imprese piuttosto che valorizzazione tecnologica, anche qui insomma c'è da fare molto, parlo in generale ovviamente, ma qual è la sua impressione su questo? In questo caso c'è da dare il massimo supporto possibile a imprese di questo genere, la LEF rappresenta un'eccellenza assoluta nel panorama nazionale e anche internazionale, ecco noi quello è un classico esempio di quello che noi vogliamo fare a San Vito per San Vito e non solo per San Vito ma per tutto il territorio, quindi la internazionalizzazione, c'è anche un focus adesso interregionale tra Fiori Venezia Giulia e Veneto su questo, è quanto di più importante possiamo fare per il nostro futuro, per tornare ai livelli naturalmente di pre-crisi ma soprattutto agganciare la crescita europea, settore nel quale l'Italia purtroppo ha sempre un po' stentato e purtroppo anche le nostre zone. Quella è un esempio di cosa dobbiamo fare per San Vito e è un discorso che vale per il lavoro, vale per le imprese naturalmente, vale per la cultura, abbiamo avuto adesso il piccolo violino magico che è un esempio anche di eccellenza del nostro comune, del nostro territorio, votato anche per l'impegno dei privati, delle associazioni, tutti quelli che concorrono appunto a dare una mano e l'amministrazione comunale deve assolutamente sostenere questo tipo di imprese e voglio ricordare anche le parole del Ministro Bianchi riguardo alla formazione e non solo e non tanto quella universitaria ma comunque naturalmente tutto questo fa sì che vengano richiamati i giovani preparati che vanno purtroppo a lavorare all'estero una volta che hanno finito la formazione nelle nostre università, ma anche la fascia 0-6 anni che è quella in cui si ha l'imprinting, si impara ad imparare e quindi dobbiamo anche lì sostenere tutte le strutture che abbiamo comunali e non per far sì che i bambini ma futuri ragazzi e adulti del domani possano imparare in luoghi belli, in luoghi adatti alla cultura. Grazie a Valerio Dalle Fratte, è stato in nostra compagnia, ebbene girava con un arnese da scasso ma è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato a Cadea Gorizia. La Polizia di Stato di Gorizia ha deferito all'autorità giudiziaria un cittadino ungherese di 58 anni per il reato di porto ingiustificato di armi e per il possesso ingiustificato anch'esso di strumenti atti allo scasso. I controlli nei confronti dell'uomo effettuati da parte del personale della squadra volante della locale Questura sono iniziati nel pomeriggio dello scorso 20 luglio a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. La segnalazione riguardava una persona sospetta che si aggirava nei pressi di alcuni esercizi commerciali di via Trieste a Gorizia. Gli agenti sono immediatamente intervenuti riuscendo ad identificare l'uomo sul quale già gravavano precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Approfondendo il controllo a seguito della perquisizione lo straniero è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 centimetri, di una forbice e della lunghezza complessiva di 14. Continuando l'uomo era in possesso anche di una pinza a becco lungo di circa 18 centimetri di numerosi punteruoli. Terminati gli accertamenti presso la caserma Massarelli, gli oggetti trovati in possesso al 58enne sono stati sottoposti al sequestro, mentre l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria e segnalato all'ufficio immigrazione per l'avvio della procedura relativa alla sua posizione amministrativa sul territorio nazionale. Antia Tirelli è consigliere comunale a Pordenone, tra l'altro insomma il prossimo potrebbe essere anche l'ultimo consiglio comunale, no Tirelli? Sì, forse, ma è probabile che sarà l'ultimo consiglio comunale di 5 anni molto intensi che sia la maggioranza in consiglio a sostegno ovviamente del sindaco Ciriani che l'amministrazione Ciriani dove sono stati proprio protagonisti nel cambiamento di questa città. Premo anche a precisare il ruolo di Pordenone Cambia come anche gruppo di maggioranza relativa in consiglio che in questi 5 anni ha dato grandissima feduce, è stato veramente grande sostenitore dell'azione amministrativa del sindaco Ciriani. E nell'ultimo probabile consiglio di lunedì prossimo andremo a trattare a chiusura in un certo senso due argomenti importanti, da una parte gli equilibri di bilancio che adesso arrivo dalla prima commissione propedeutica bilancio al consiglio di lunedì certificano i conti, la bontà dei conti del comune di Pordenone, conti tenuti in ordine dall'amministrazione Ciriani e dall'assessore Burni che continuiamo a ringraziare per il lavoro che ha svolto in questi 5 anni. In 5 anni in cui però è stato un aumento esponenziale incredibile degli investimenti anche sulle opere pubbliche che tutti noi vediamo e i cittadini vedono da 5 anni a questa parte in questa città, più di 150 milioni di Euro investiti in questi 5 anni e la riduzione dell'indebitamento dell'ente che è una cosa molto importante che è sempre avvenuta in questi 5 anni mantenendo poi la pressione fiscale locale inalterata se non addirittura su alcuni fronti diminuita, questa è una cosa molto importante che ci teniamo sempre a sottolineare. Il secondo punto all'ordine del giorno sarà, e mi ricollego agli investimenti su opere, la variante generale, scusate la variante specifica in questo caso non generale che è stata già approvata da questo consiglio che riguarda la viabilità dell'ospedale di Pordenone che portiamo in consiglio finalmente, la discuteremo, sono anche qua 2,6 milioni di Euro frutto circa 2,6 milioni di Euro frutto della sinergia tra l'amministrazione Ciriani e la giunta Fedriga e l'amministrazione regionale dunque per cercare di sgravare il problema di viabilità per il futuro ospedale di Pordenone che senza questa viabilità che andremo ad approvare non poteva essere agibile, quindi una volta ancora smentito coloro che dicevano che invece l'ospedale era chiave in mano, non c'era la viabilità, l'abbiamo dovuta finanziare noi negli anni precedenti, adesso andiamo a eseguire, ad approvare lunedì questo fondamentale atto che è proprio l'approvazione della variante specifica al piano regolatore per creare una nuova rotonda, per riqualificare, dobbiamo creare una nuova rotonda sul lato di Via Rotto che colleghi poi Via Ungaresca alla Pontebana, una nuova rotonda vicino a quella che c'è in questo momento che è completamente insufficiente, anche questa vista ideata dalla precedente amministrazione, in più anche bisogna andare a riqualificare, questo lo vedremo lunedì, anche Via Montereale nella parte dall'ospedale fino alla Pontebana e la stessa Via Errorotto, quindi ci sono una serie di aspetti di viabilità che devono essere assolutamente portati in approvazione, saranno approvati e daremo una mano ancora di più all'inaugurazione del nuovo ospedale, oltre a cosa? Alle forniture interne che ammontano a 50 milioni di euro che abbiamo portato negli anni scorsi a casa, nonché anche recentemente invece il finanziamento fondamentale per capire cosa fare dei vecchi padiglioni, quindi sia dal punto di vista della demolizione e della riqualificazione di alcuni di essi. Che cosa si dovrà fare? Ovviamente perché l'ospedale così com'è insufficiente dal punto di vista infrastrutturale, ed sarà necessario reperire una struttura che sia adeguata e idonea per far sì che la capienza del nuovo ospedale sia idonea per il futuro e per le future generazioni soprattutto. Grazie Mattia Tirelli, seguiremo il Consiglio Comunale di lunedì, vedremo insomma se poi sarà effettivamente l'ultimo, insomma il probabile. Vedremo. Grazie, grazie per essere stato con noi. Andiamo in Veneto con l'ospite in compagnia di Rosario Padovano, altro tema importante. Bene, riprendiamo la linea dal Veneto, parliamo di politica portogloro, il capogruppo Marco Terenzi di Civici e Democratici oggi ha inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio Gastone Mascherino nel quale si richiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per parlare di temi legati alla sanità. Dopo l'accordo dello scorso anno annunciato durante una commissione il 30 dicembre se non ricordo male, l'ospite deve ancora aprire, giusto? Sì, questo è uno dei temi che abbiamo sottoposto all'attenzione del Consiglio, in particolare all'attenzione del Presidente del Consiglio Mascherin a fronte della nostra richiesta. Noi crediamo che il tema della sanità debba essere considerato con l'importanza che ha, cioè è un tema prioritario ovviamente, e non soltanto perché siamo ancora in una fase pandemica e abbiamo visto che tutto sommato la pandemia, il Covid-19 ha in qualche modo anche evidenziato ulteriormente le criticità anche del nostro sistema. I punti di forza, per carità, anche... Il Covid ha messo in luce Italia la sanità pubblica. Il Covid ha messo in luce Italia e ha messo in luce sa che cosa anche? Una cosa di cui si parlava già da tempo, e cioè che oltre a degli ospedali efficienti noi abbiamo bisogno di una rete territoriale di servizi che in qualche modo siano servizi di prossimità per il cittadino, in particolare per la patologia cronica, in particolare per l'anziano, ma anche per il sistema bambino. Ad esempio uno dei temi importanti e fondamentali su cui noi vorremmo in qualche modo intervenire è che anche il sistema bambino, anche l'infanzia e le famiglie connesse hanno la necessità di servizi più prossimi, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi riabilitativi, servizi di coordinamento e di collegamento con la scuola affinché il bambino magari più fragile possa in qualche modo essere un bambino che partecipa, un bambino che si è integrato e che si è inclusa. In Italia quanti milioni di euro arriveranno con il recovery fund all'azienda 4 del Veneto orientale? Guardi questo io non lo so. Perché durante la gestione Bramezza lo stesso direttore generale che adesso è a Bassano sosteneva che sarebbero arrivati almeno 30 milioni, di cui 15 a Portogruaro, insomma parlava di cifre adeguate credo, no? Allora stia a sentire, noi siamo consiglieri comunali, il nostro compito è quello A di promuovere una lettura del bisogno, B di promuovere una discussione e un confronto nelle istituzioni e il consiglio comunale è una istituzione vicina ai cittadini, C noi dobbiamo prospettare anche una visione di sanità che sia una sanità attenta ai bisogni dei cittadini e che sia anche pronta ad evolvere. Noi poniamo soltanto alcuni punti e concludo perché mi rendo conto che il tempo è anche breve a disposizione. Uno, dobbiamo assolutamente implementare le aggregazioni territoriali dei medici, le cure primarie sono fondamentali, invece abbiamo visto che il sistema da questo punto di vista comincia ad avere dei problemi. A Concordia ci sono forti problemi. Ci sono non solo Concordia ma in diversi comuni anche del Veneto orientale, quindi noi dobbiamo assolutamente risolvere il nodo delle cure primarie, quindi dobbiamo irrobustire, dobbiamo far diventare più forte la rete delle aggregazioni dei medici. Certo, se un medico deve seguire 2000 pazienti diventa un problema. Le aggregazioni territoriali dei medici appaiono delle soluzioni utili, però bisogna investire, bisogna investire risorse, bisogna investire in attrezzature, bisogna investire anche in risorse professionali perché queste aggregazioni sono in grado anche di dare tutta una serie di prestazioni di cui il cittadino ha bisogno. Le strutture intermedie RSA, ospedale di comunità e hospice. Ecco, sull'hospice noi intendiamo riproporre una riflessione, dobbiamo rimettere luce su questo tema perché se da una parte... Bisogna capire Terenzi perché in otto mesi non è mai stato aperto, l'emergenza Covid non può essere la sola causa. Noi siamo perché l'ospice rimanga a Portogruaro perché è un servizio di prossimità. Anche la senatore che fa parte della maggioranza la pensa così. Ecco, quindi noi però in onore del vero su questo abbiamo fatto una battaglia, ecco, anche nella scorsa consigliatura e devo dire la verità che nella scorsa consigliatura siamo stati un po' poco ascoltati da questo punto di vista. Mi fa piacere che ora nella comunità si sia acceso il riflettore sull'ospice e sia considerato ormai da tutti, dalla cittadinanza in primis, un servizio irrinunciabile. Ringraziamo Marco Terenzi, restituiamo la linea alla redazione centrale. Pordenone nell'autunno 2021 riprenderà il censimento Istat della popolazione che sarà arrestato a causa del Covid. A tal fine il Comune cerca altri 5 o 6 rilevatori per le indagini statistiche che si andranno ad aggiungere a quelli già in graduatoria per un totale di circa 19 unità. Le domande vanno presentate entro le 12 di venerdì 6 agosto per partecipare necessario il diploma di scuola superiore. Torniamo ancora in Veneto e parliamo ancora di Portogruano. Grazie, prendiamo nuovamente la linea qui dal Veneto. Renato Stival, consigliere comunale del gruppo senatore, gruppo di maggioranza in consiglio. Stival, ci sono tanti argomenti che stanno a cuore ai portogruaresi. La notizia di oggi, non so se ne ha conoscenza, la richiesta da parte di civici democratici di richiedere un consiglio comunale per parlare di hospice dopo la pausa estiva e di alcune cose che non vanno tanto per il meglio nelle strutture ospedaliere. Cosa ne pensa? Il problema dell'hospice è stato sollevato questa primavera dal nostro gruppo consigliare per chiederne subito l'apertura e la fruizione da parte dei cittadini di Portogruano. Benvenga un argomento del genere, benvenga un aggiornamento sulla situazione, sullo stato di fatto dell'hospice a Portogruano. Quindi voi siete d'accordo con civici democratici in questo senso? Noi siamo d'accordo con tutti quelli che hanno a cuore la città di Portogruano e i servizi a Portogruano. Per quanto riguarda invece la protesta degli alberi, che idea vi siete fatti? Diciamo che per quanto riguarda gli alberi, credo che le manifestazioni siano giuste e doverose, oggi soprattutto per quanto riguarda il mantenimento del verde a Portogruano e credo che sia un argomento che deve essere affrontato e discusso in maniera molto profonda. Oggi tagliare un albero vuol dire almeno piantarne 4 o 5 se non 10 per raggiungere le dimensioni di quell'albero. Mi perdoni, per quanto riguarda invece la richiesta che voi state facendo in modo pressante di tombidamento di via Villa Storta, la Giunta vi ha risposto in qualche modo, si sta muovendo qualcosa oppure non si muove niente? Allora diciamo che su questo argomento è un argomento che è molto datato, già le amministrazioni precedenti, non solo la Senatore ma anche le Giunte Bernoncello avevano chiesto di poter dominare un tratto di quel canale per dare una nuova viabilità a quel tratto di quartiere che oggi necessita di un messo in sicurezza di quella strada. Quindi sicuramente bisogna parlarne con tutti quanti i crismi necessari perché sappiamo poi cosa succede quando si tombina sentendo ovviamente il parere. Per quello degli allagamenti, perché comunque tra l'altro via Villa Storta è un po' strana, nel senso che comunque c'è questo canale, collega via Le Trieste con la zona dell'Arena 5, quindi la zona di via Aldomoro, però subito a destra il cosiddetto rione delle palazzine si trova quasi in modo convesso in discesa rispetto a via Villa Storta, giusto? Quindi voi temete un effetto cartavelina verso quelle strade delle palazzine? Sì, infatti lei ha perfettamente ragione, credo che va fatto uno studio molto approfondito sull'argomento cercando di inquadrare bene qual è la situazione di tutto quel pezzo di territorio, dando delle risposte che possono essere sicuramente di carattere viario ma anche di carattere ideogeologico. Bene, ringraziamo dunque Renato Stivalla, restituiamo la linea alla redazione centrale. Domenica 25 luglio a Cinto Caumeggiore sarà presente durante tutta la giornata il Fondo per l'Ambiente Italiano Giovani, il FAI Giovani, per aprire al pubblico Villa Bornancini, situata nel centro del paese, si frege di un vincolo storico e artistico assegnato dalla sovrintendenza di Venezia che riguarda sia il complesso architetanico che il parco e il giardino annessi. Soddisfazione è stata espressa tra l'altro dalla capogruppo di minoranza per la lista cinto futura Emilia Vida. E ora un servizio dedicato allo sport, al Pordenone Calcio che ufficializza un nuovo esterno e a seguire ancora sport con l'ospite di Rosario Padovano e si termina qui la prima parte del telegiornale da Pordenone ma è la prima parte ovviamente perché poi l'informazione le notizie continuano prima da Udine e poi in Veneto. Dalla città del Noncello è tutto, linea allo sport. Quali sono le tue prime sensazioni da giocatore nero-verde? Le sensazioni sono queste che sono arrivato oggi e praticamente ho visto tutto organizzato, organizzazione di Serie A, ambiente molto amichievole e non vedo ora di raggiungere la squadra. La società ha creduto fortemente in te, cosa ti ha convinto di sposare questo nuovo progetto per te? No, praticamente subito che mi ha chiamato direttore e questo mi ha convinto di più perciò mi ha fatto questa scelta. Sei a reduce dalla promozione in Serie A con la Serenità, cosa ti senti di dare a questa nuova squadra? Sicuramente perché non sono giovane come prima e voglio portare un po' di esperienza nella squadra e serenità in spogliatolio e dare grossa mano in campo. Credo che c'è tanto da fare e sono pronto a dare la mano. Il Pordenone di Mister Paci giocherà molto sulle fasce e tu sulla fascia a destra insomma, sarai un riferimento. Hai sempre giocato sull'esterno destro? Insomma, raccontaci un po' il tuo ruolo. No, forse sarebbe strano, però in ultimi anni in Italia si è cambiato molto modulo di giocare. Si gioca con i quinti, si gioca a tre in mezzo e praticamente ci sono poche squadre che giocano a quattro in mezzo con esterni e io, giocando sempre in Serie B, ho giocato in questo ruolo come esterno alto in 4-4-2 o 4-2-3-1, perciò modulo lo conosco bene e sono pronto, come ho detto prima, a dare la mano e non vedo ora di ricominciare. Quali sono le tue caratteristiche principali? No, sono un giocatore generoso, classica caratteristica di giocatore che gioca sulla fascia, allora tanta corsa, fisicità e poi in miei migliori annate ho fatto gol, ho fatto assist e come ripeto, non vedo ora di ricominciare. Tu che la conosci bene, che Serie B ti aspetti in particolare quest'anno? Tu hai 184 presenti, quasi dieci anni in categoria. Sarà una nata difficile perché ci sono tante le squadre che non sono salite l'anno scorso e sono scese le squadre importanti, perciò lo so com'è la categoria, lo so che non sarà facile, però alla fine non conta nome, conta quello che fai tu quando scendi in campo, come ha dimostrato Salerno l'anno scorso. Abbiamo invitato Leonardo Moretto, ben trovati, parliamo di Pellacadestro Portogruaro, chiaramente la settimana si chiuderà con la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tocco, Olimpiadi che sono sempre a rischio, quanto può essere importante per il vostro movimento, per la vostra società il fatto che la Nazionale Azzurra dopo 17 anni si sia qualificata alla rassegna a 5 cerchi, Leonardo? Beh, è sicuramente stato un risultato eccezionale, soprattutto per come è maturato, il modo in cui i nostri ragazzi hanno vinto in terra serba è stato fantastico, hanno giocato in una maniera che a tutti quanti è piaciuta, spero che questo si rifletta anche in un rinnovato entusiasmo, anche considerando le aperture che potremmo riavere dopo il Covid, un rinnovato entusiasmo, dicevo, per tutti i nostri atleti che ritornano in palestra a giocare al gioco che amiamo tanto. Tra l'altro questa qualificazione è arrivata con dei cestisti italiani che credo siano partiti un po' dal basso, no? Ma questo è un po' il significato anche con le dovute proporzioni del nostro movimento, noi puntiamo molto sulla crescita del settore giovanile e il fatto che appunto la nazionale sia anche frutto di ragazzi che sono nati da settori giovanili molto di livello, diciamo, non eccelso, ma che hanno saputo riconoscere e crescere all'interno appunto del movimento, fa ben sperare per tutti quanti i minors, per tutte quante le società come noi che sono piccole e che credono nella crescita del proprio settore giovanile. A livello femminile c'è anche questa grandissima novità, oltre alla rampicata, il karate, il surf, alle Olimpiadi debutta il pallacanestro 3x3. Tutti noi possiamo giocare in un campo all'aperto a 3x3, credo lo facciano migliaia e migliaia di persone. Le regole sono un po' diverse, ad esempio il canestro vale un punto solo. Sì, il 3x3 è stato adesso interpretato e portato appunto ai massimi livelli che sono quelli olimpici. È uno sport dinamico, uno sport che ha regole diverse, anche se la funzione è sempre la stessa, quella di buttare la palla dentro il cerchio e la retina. Mi aggancio a questo assist che mi fai, Rosario, dicendo che adesso a fine luglio ci sarà il nostro torneo 3x3 a Portoguaro, i BCC, il basket che conta, che vedrà i protagonisti, i nostri enfant prodige, Eugenio Rota e altri ragazzi che stanno promuovendo questo movimento e questo torneo. Per tutti gli sportivi è una grande occasione per rivedere il basket all'aperto. Grazie, grazie Leonardo Moretto. Restituiamo la linea alla redazione centrale. La serata è ben ritrovata, condizioni di bel tempo oggi sulla regione, con cielo in prevenza sereno, poco nuvoloso, temperature sempre da piena estate. La giornata di domani sarà cartellizzata da un po' più di variabilità, quindi un cielo tra il poco nuvoloso e il variabile, ci sarà un po' più di umidità in quota, formazione di nubi, possibile qualche locale rovescio al pomeriggio sulla zona montana, specie sulle prealpi, in serata poi e nella notte successiva, possibile qualche temporale anche in pianura. Temperature più o meno stazionarie, ancora un po' di borino domani mattina sulla costa, specie sulle zone orientali, in giornata venti a regime di brezza. Un po' di nubi anche venerdì, sempre un cielo tra il poco nuvoloso e il variabile, è possibile qualche locale rovescio al pomeriggio, specie in montagna. Verrà più caldo nel fine settimana, quindi sarà anche un po' più affoso, temperature in aumento di qualche grado. Buona serata a tutti. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. In apertura un incidente avvenuto nella giornata di ieri, dove i vigili del fuoco di Magnago sono intervenuti a seguito di un tamponamento tra cinque veicoli in via San Martino a Monte Reale-Valcellina, tra i mezzi coinvolti due furgoni e due auto alimentate a metano e GPL. Le operazioni dei pompieri si sono svolte in sinergia con quelle dei sanitari intervenuti sul posto per soccorrere i feriti. I cinque mezzi sono stati messi in sicurezza verificando che non ci fossero perdite di gas dai serbatoi delle auto incidentate sul posto. È giunto anche l'elicottero sanitaria, tuttavia solo per una ragazza è stato necessario il suo trasferimento all'ospedale in ambulanza per i vari accertamenti sul posto, presente anche la polizia stradale di Spilimbergo. È stato trovato morto nella sua casa a Lignano Sabbiadoro nella mattinata di martedì. Sandro Ippoliti, molto conosciuto a Udine e in provincia, per aver prestato servizio per oltre 30 anni in polizia, prima come componente della stradale e poi in questura. È stato trovato privo di sensi, il medico del 118 intervenuto, non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso avvenuto per cause naturali. Ippoliti era originario di Roma ed era andato in pensione nel 2015. Cominceranno dal prossimo 12 settembre per l'Apu-Udine le gare relative alla Supercoppa di Serie A2. Sentiamo. La Lega Nazionale Pallacanestro in questi giorni ha annunciato le combinazioni dei gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa di Serie A2. L'Apu-Udine rientra nel gruppo verde assieme alla Pallacanestro Mantovana, Orzinuovi e la Scaligera Basket Verona. Per quanto riguarda le Final 8, sono previste da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sede ancora da definire. Per l'Apu si partirà domenica 12 settembre con la trasferta in terra a Mantovana. Nella seconda giornata invece, mercoledì 15, Friulani affronteranno in casa la Scaligera Basket Verona e infine domenica 19 settembre saranno ospiti ad Orzinuovi. Alle Final 8 2021 accederanno le sette squadre che vinceranno il proprio girone unitamente alla società organizzatrice dell'evento nel caso non fosse ancora qualificata. Se dovesse verificarsi invece una situazione di parità, la squadra prima classificata sarà determinata seguendo alcuni parametri, ovvero la media canestri con le squadre a pari merito del proprio girone, la media canestri nel girone oppure per sorteggio. Nel pomeriggio di ieri a Duino si è verificato un incidente all'altezza di un incrocio semaforico. A scontrarsi per causa il vaglio dei carabinieri di Prosecco un'auto e una moto ad avere alla peggio il Centauro, un triestino di 43 anni stabilizzato dai sanitari arrivati nel posto per poi essere trasportato all'ospedale di Monfalcone. Fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. Ha illeso invece il conducente dell'Audi, un cittadino austriaco. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto. Nella giornata di ieri la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cervignano con il supporto dell'autogru della sede centrale di Udine è intervenuta a Fiumicello per soccorrere un cavallo rimasto bloccato nel fango dentro ad un laghetto. I pompieri dopo aver rimobilizzato l'animale e dopo averlo imbragato lo hanno sollevato con l'autogru per riportarlo sulla riva dove è stato riconsegnato stanco ma in colume al proprietario. Le operazioni di soccorso sono state costantemente seguite da un veterinario. Il comune di Udine rende noto che nei prossimi giorni sarà sottoscritta un'ordinanza rivolta al demanio per la recinzione e la pulizia del campo nomadi di via Monte Sei Busi. L'obiettivo è restituire a decoro e garantire la sicurezza igienica e sanitaria un'area pesantemente degradata a causa della presenza di pneumatici, cavi elettrici, materiale ferroso, mobili e altri rifiuti parzialmente incendiati. La decisione è stata assunta successivamente a un sopralluogo che si è tenuto nei giorni scorsi alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia di Udine, servizio territoriale. Sentiamo adesso gli interventi dei consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia in merito al disegno legge sull'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli enti di decentramento regionali. Sentiamo. Ce la farete per il 2022 con gli EDR? Io sono sicuro di sì, perché credo che sia una riforma necessaria per rimettere un po' ordine in FWG Strade tra delle posizioni diverse, tra personali che provengono dalla provincia e personali che sono di una società. Di conseguenza è indispensabile rimpolpare con le nuove assunzioni e ridare la responsabilità all'EDR della gestione delle vecchie strade provinciali. Consigliere Jacopo, EDR tanto valeva tenere l'ex provincia? Ma direi tanto valeva immaginare che il mantra degli EDR colpisca ancora, nel senso che si vuole riconoscere una riedizione delle province senza procedere al percorsi istruzionali che ricostituisce l'ente intermedio. Si trasferiscono in questo contenitore, che è un ente regionale, competenze che erano delle province ma che erano state ottimizzate in Friuli Venezia Giulia della strada, parlo della viabilità ex-provinciale in questo caso, riportandole e rifrazionandole su quattro entità che idealmente rappresentano delle province antiche ma che in realtà oggi sono degli enti regionali. Per Forza Italia si è EDR, ma c'è un però? No, diciamo che c'è un auspicio per il futuro. Le EDR vanno benissimo perché daranno risposte sulle manutenzioni delle strade, quindi è un provvedimento veramente valido. Ciò che noi ci aspettiamo è che sul lavoro delle manutenzioni stradali vi sia anche un'opera di pianificazione di carattere sovracomunale e quindi si innesta la materia urbanistica che oggi magari non è considerata, ma speriamo che in un futuro, per quanto riguarda la pianificazione del territorio, anche le EDR possano in qualche maniera dare il loro contributo per la pianificazione sovracomunale. Perché no a questo disegno di legge, consigliere Ansel? Perché è una controriforma, tutte le volte questa giunta fa esattamente il passaggio all'inverso di quella precedente, così non si va avanti, bisogna costruire, correggere gli errori, ma tornare indietro, smontare tutto vuol dire trovarsi di nuovo con i problemi che c'erano prima. Quindi quale sarebbe la sua visione di area vasta? Ad esempio un soggetto, manca l'ex province, li mettiamo oppure no? Ma qui più che l'area vasta, quello che manca è l'area sovracomunale. Noi siamo un territorio molto diversificato, abbiamo tutta la frammentazione dei comuni e quello che è il livello giusto su quale agire appunto è quello sovracomunale che permette di trovare una pianificazione, una programmazione che metta d'accordo le esigenze di tutta questa pluralità di comuni. Questo lo realizzava Luti, queste comunità di comuni che ci sono adesso forse possono essere in livello giusto. Certamente della provincia a questo punto o di queste forme non c'è bisogno. Anche oggi la giustificazione che è stata data per tornare indietro era quella che avevano delle modalità di lavoro diverse, ma poi alla fine dovendo fornire dei servizi sono tutte, diciamo, dovrebbero tutte fare la stessa cosa. Consigliere Danone, qual è l'elemento che secondo lei manca invece potrebbe essere inserito nel DDL 142? Sì, io oggi in commissione commentando appunto il disegno di legge che ho votato favorevolmente ho proposto anche la possibilità di istituire delle convenzioni tra gli EDR e gli enti locali affinché questi, qualora abbiano le risorse, i mezzi, le attrezzature e la volontà da soli o associati con altri comuni, possano gestire magari quelle traverse interne, sempre di strade ex provinciali che attraversano il loro territorio al fine di gestire direttamente la manutenzione. Abbiamo visto spesso il problema che è quello più, diciamo, così evidente dell'erba alta ad esempio e quindi questo potrebbe anche responsabilizzare gli stessi amministratori locali che rispondendo direttamente ai cittadini potrebbero dire scegliamo noi di tagliarci l'erba pur richiedendo un po' le risorse alle EDR a compensazione di questi costi che l'ente locale si subarcherebbe. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della Galleria Montebello, quest'oggi infatti è stata riaperta al traffico ed è percorribile in entrambi i sensi di marcia ed è accessibile da qualsiasi tipo di veicolo o bus compresi. Ad annunciarlo la polizia locale sui propri canali social sono stati quindi rispettati i tempi indicati nelle scorse ore dal consorzio SAC per la conclusione dei lavori di risanamento della parte alta dalla quale lo scorso giovedì erano crollati alcuni calcinacci su un'autovettura in transito. Il comune di Udine ha comunicato che domani giovedì 22 luglio a partire dalle ore 9 la viabilità di Piazza Paderno sarà modificata per consentire la realizzazione dei lavori di asfaltatura. Nello specifico saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo eccetto ai mezzi autorizzati, istituita anche la zona rimozione coatta per ogni categoria di veicolo nelle aree interessate dal cantiere e il senso unico alternato fino al termine dei lavori. L'osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro ha reso noto il report sui dati dell'occupazione nel periodo della post pandemia e sull'andamento che sta seguendo adesso il mercato del lavoro. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. In questi giorni l'osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro ha pubblicato il report relativo ai dati dell'occupazione nel periodo della post pandemia e sulle tendenze che segue il mercato nell'anno in corso. Nel documento sono presenti le principali dinamiche legate alla ripresa economica, alle assunzioni e alle richieste di personale registrate nel mercato del lavoro con gli occhi puntati alle previsioni di crescita per il futuro. Nel 2020 si è registrata una contrazione del PIL che ammonta almeno 8,9%. Tuttavia l'impatto negativo sul mercato del lavoro in regione è stato arginato. Infatti, secondo quanto dichiarato dall'Istat, si è visto un aumento dell'occupazione tra il 2019 e il 2020, motivo per cui il Friuli Venezia Giulia è stata definita come una regione tra le più resilienti in Italia dal punto di vista occupazionale. Da sottolineare il fatto che questo risultato è stato raggiunto grazie anche al blocco dei licenziamenti dichiarato a livello nazionale, mentre per quanto riguarda la regione stessa, grazie al sostegno e agli incentivi straordinari rilasciati a favore dei comparti più svantaggiati per il 2021, la previsione di crescita del PIL è del più 5,2%. Al civico 19 di salita di Gretta a Trieste, alcune vistose crepe lungo le facciate di uno stabile hanno messo in allarme gli inquilini, i quali sono stati fatti evacuare in piena notte dai vigili del fuoco in via precauzionale. Dopo i dovuti controlli ed accertamenti del caso, l'edificio non è stato più ritenuto agibile e di suoi proprietari non hanno potuto rientrare nei rispettivi appartamenti se non per raccogliere alcuni beni personali assieme ai pompieri. Il motivo della presenza improvvisa delle crepe che hanno compromesso la stabilità e la sicurezza dello stabile va ritrovato nei lavori edili del vicino cantiere il quale sta provocando cedimenti strutturali all'edificio limitrofo. Tuttavia la vera causa deve essere ancora accertata in via ufficiale dagli esperti in materia. Tutte le novità per l'edizione 2021 del Friuli Doc annunciate nelle ultime ore dall'amministrazione comunale. Crescono intanto le adesioni per la manifestazione più attesa della città che si terrà dal 9 al 12 settembre. Non solo l'integrazione con Udine sotto le stelle ma anche il ritorno di 25 delle proloco della zona collinare che saranno nuovamente protagoniste sul piazzale del castello. Il problema delle disposizioni anti-covid sembra superato. Infatti le proloco hanno deciso di fornire la somministrazione del cibo solo al tavolo. Altra novità invece riguarda la Col di Retti che organizzerà cene a tema su prenotazione per presentare le eccellenze dell'enogastronomia regionale al Giardino del Torso. In questi giorni i rappresentanti dei sindacati, dei pensionati CGL, Will e Kapla hanno siglato un documento inviato alla regione dove viene espressamente richiesto di potenziare l'offerta di servizi pubblici di assistenza domiciliare in linea con l'obiettivo previsto dal PNR, ovvero di arrivare a prendere in carico almeno il 10% della popolazione over 65. Da qui segue la richiesta di privilegiare l'assistenza domiciliare e lo sviluppo di modalità abitative innovative rispetto al ricorso alla casa di riposo che dovrebbe avvenire come attesta il documento solo a fronte della reale impossibilità di mantenere l'anziano al proprio domicilio o in strutture abitative leggere. Questa era la nostra ultima notizia, si conclude anche oggi la nostra edizione. Io vi ringrazio per averci seguiti, adesso vi lascio con un piccolo break pubblicitario e poi l'ina che può andare al Collega del Veneto. Grazie e buon proseguimento di serata. Gentili telespettatori, ben trovati nuovamente dalla redazione di TPN Veneto, Ponte della Priula, Susegana. Incidente sul lavoro questa mattina alle Fornaci Grigolin, un ragazzo di 22 anni è caduto da un ponteggio e purtroppo non ce l'ha fatta. Indagano i carabinieri della Compagnia di Conegliano. Strage di Bologna. Al processo un importante riconoscimento. Maurizia Bonini, l'ex moglie di Paolo Bellini, non ha dubbi, ha riconosciuto nell'udienza di ieri l'ex marito accusato di aver preso parte alla strage del 2 agosto 1980. In un video girato alla stazione di Bologna da un turista straniero, pochi istanti dopo il massacro ha costato la vita a 85 persone, il ferimento di altre 200. È un passaggio decisivo al processo che vede alla sbarra l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, un gruppo di estrema destra. Nel brutto episodio, il più feroce attentato della storia della Repubblica Italiana, perse la vita anche un ventenne di Verona. È la strage di Bologna, è la più importante tragedia repubblicana perché molti diranno che i morti furono di più nella strage di Vergarolla. È vero, però Vergarolla purtroppo nel 1946, pur essendo nata da poche settimane nella Repubblica Italiana, purtroppo era sotto l'amministrazione anglo-americana, quindi era un territorio occupato, era Italia, ma era territorio occupato da Stati Uniti e Regno Unito. Conti al sicuro, nuovi investimenti sulla viabilità provinciale nella città metropolitana di Venezia, grazie a un assestamento di bilancio di previsione 2021-2023, che mette a disposizione ben 8,4 milioni di euro nelle casse della città metropolitana. Ora si metterà mano alle strade. Morto nel sonno a 18 anni. Forse Davide Bristot, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, 18 anni di sedico, è stato stroncato da una malattia cardiaca nel sonno. Si tratterebbe di una malattia silente del cuore, come quella che ha ucciso il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Ci si chiede, visto che Davide giocava a pallavolo ad ottimi livelli, com'è potuta sfuggire questa malattia ai macchinari? Ricordiamo che per il caso di Astori, qualche medico è stato condannato. Teglio Veneto, colto da malore in casa, muore nonostante il prodigarsi dei soccorsi. Romano Paoletto aveva 70 anni ed era pensionato. La procura di Porta e None ha rilasciato il nulla osta. Funerali oggi pomeriggio a Cintello di Teglio Veneto, il cordoglio del sindaco di Teglio, Oscar Cicuto. Ora parliamo del drammatico caso del bambino di Portogruaro, morto a 24 ore dalla nascita. C'è infatti una presa di posizione della famiglia che dà alcune precisazioni su quanto accaduto il servizio. La famiglia era consapevole che il parto si sarebbe svolto in condizioni normali. Da questo presupposto si è deciso di presentare un esposto alla magistratura. La famiglia del piccolo di 24 ore, scomparso il giorno dopo il parto avvenuto a Portogruaro, e il ragazzo è morto a Treviso, hanno deciso dunque di proseguire alla volta della procura di Roma. Infatti si sono rivolti allo studio legale Sgromo, che cura gli interessi delle persone vittime di malasanità. La posizione dell'azienda sanitaria numero 4 in questo periodo è quella del profilo basso. Si è scusata, si è in qualche modo messa in contatto con la famiglia per quanto è accaduto, ma si rende con tempo disponibile a fornire tutti i documenti necessari per fare chiarezza su questa vicenda bruttissima, orribile, il caso di cronaca nera del decennio a Portogruaro. Virus Covid-19, probabilmente con variante Delta in ospedale a San Donato di Piave. Ci sono 15 contagiati, nessuna preoccupazione, non sarà riaperto il Covid Hospital a Jesolo. I pompieri hanno operato in via dei Pioppi a Grisignano di Zocco stamattina per la rottura di un tubo del gas avvenuto durante alcuni lavori di scavo di alcune case in costruzione. I pompieri arrivati da Vicenza hanno delimitato la zona, mentre la perdita è stata parzialmente interrotta per la chiusura di una valvola da parte di un tecnico della rete del gas. Sono in corso gli scavi per l'individuazione a monte della tubazione per mettere in sicurezza tutta la condotta operazioni tecniche e la cui sicurezza è assicurata dalla personale dei pompieri. Incendio di un pagliaio, circa 200 rotoballe, non tutte coinvolte nelle fiamme, nella notte a Zero Branco in via Zariolo. Siamo in una provincia di Treviso. Ancora pompieri in provincia di Vicenza. Una gattina portata in uno studio veterinario a Malo per essere sterilizzata. Scappa ai medici prima dell'intervento, riesce a infilarsi nel controsoffitto della clinica. Sono dovuti intervenire i pompieri di Schio, che solo dopo qualche ora sono riusciti a convincere la bestiola a farsi consegnare e a metterla in un'apposita gabbietta. La gattina è stata comunque rifocillata, lasciata riposare dai medici veterinari. Vicenza, a 16 anni, mette a segno 7 furti negli appartamenti dei vicini. La madre scopre la figlia e la denuncia. La piaga dei furti a Portogruaro. Non manca una nuova tipologia nel servizio i dettagli. Ennesimo episodio di furto in un supermercato di Viale Trieste, alla periferia della città di Portogruaro. La tecnica dei ladri è sempre la stessa. Riempiono le borse della spesa con vari prodotti, tutti abbastanza leggeri, e una volta le casse, dopo aver regolarmente rispettato la coda, approfittano del fatto che la cassiera sia impegnata col cliente che li precede e scappano verso l'uscita, dandosela a gambe levate, senza che nessuno dei dipendenti del market abbia la possibilità di bloccarli. Gli episodi con questo modus operandi sono stati tre nell'ultima settimana, sempre nel medesimo supermercato. A seguito di tutti gli episodi sono stati allertati sia i carabinieri, che gli agenti della polizia locale. La montare della spesa rubata oscilla sempre tra i 30 e i 50 euro. A ogni modo le forze dell'ordine sono agevolate dal fatto che la zona, piena di supermercati, sia ben coperta dai sistemi di videosorveglianza. Musile di Piave, un importo complessivo degli interventi, oscillante tra 2 e 4 milioni di euro, utili al potenziamento della rete idraulica e alla realizzazione di nuove opere urbane. E' questa la finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in questi giorni tra la città di Musile di Piave e il consorzio di bonifica del Veneto orientale. Con questo accordo i due enti firmatari si metteranno al lavoro per definire le modalità di collaborazione per sviluppare gli interventi. Tra i lavori prioritari vi è l'adeguamento delle reti urbane del capoluogo, via Martiri, via Intestadura e via 19 Aprile, ma anche la realizzazione di tratti di percorsi ciclopedonali che consentano di collegare tra loro importanti circuiti strategici. Si pensa a un collegamento tra Musile e Millepertiche, lungo corsi d'acqua o su sedimi derivanti da tombinamenti di canalette irrigue. Un progetto molto ambizioso che si potrebbe esportare anche da altre parti. Un grave incidente a metà callo tra il domestico e la fatalità è accaduto a Possagno, nel Trevigiano. È esplosa una bomba in mano a un signore di 65 anni. Il servizio? Poco dopo le ore 17 di ieri, M.F., un pensionato di 65 anni che si trovava nella sua abitazione a Possagno, in provincia di Treviso, ha perso due dita della mano sinistra mentre stava armeggiando un vecchio ordigno bellico. L'uomo, rimasto sempre cosciente nonostante le ferite, è stato trasferito prima all'ospedale di Montebelluna, poi a Padova, dove è stato ricoverato. Sul luogo dell'incidente, personale del SUEM 118, carabinieri di Pieve del Grappa. Sembra che l'ordigno esploso all'improvviso risalisse alla Prima Guerra Mondiale. Ci avviciniamo alla fine del nostro telegiornale. La morte del giornalista Maurizio Marconno dopo un mese finalmente si farà all'autopsia. L'esame programmato domani alle 9.30 all'ospedale di San Dona di Piave. Il PM della procura di Pordenone del Missier ha scelto la dottoressa Frustaci. E l'alivenza gode di buona salute ma non ottima. alcuni campionamenti di Lega Ambiente e Arpav nell'ambito dell'iniziativa Operazione Fiumi hanno stabilito che ci sono dei livelli preoccupanti di Escherichia Coli, batterio di origine fecale, tra Navolè di Gorgal Monticano e Motta di Livenza, quasi al confine con il Friuli Venezia Giulia. lo ha dichiarato Anna Carozzani del team scientifico appunto di Operazione Fiumi. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a Paese nel Trevigiano, in via Postumia, scusate per un incidente stradale. Un'auto si è scontrata con un furgone, una persona rimasta incastrata all'interno della vettura. Il bilancio complessivo parla di tre feriti di fronte alla trattoria Tre Stelle. Situazione ancora incandescente in Autostrada 4, i riflessi chiaramente sono tutti sulla viabilità ordinaria. Sentite cosa è successo sulla Triestina nelle ore precedenti. Con la situazione incandescente dell'Autostrada 4 è aumentato il traffico sulla Triestina nella giornata di ieri. Rallentamenti a Fisarmonica hanno caratterizzato il tratto compreso tra San Michele e la tangenziale di Portogruaro. Si sono verificati anche rallentamenti improvvisi, situazioni che capitano solitamente in autostrada. Da non sottovalutare poi il fatto che la Triestina sia attraversata in questo periodo anche dai turisti. Le code hanno riguardato sulla Triestina anche il tratto di tangenziale in cui domenica mattina sono rimasti gravemente feriti Lorenzo Zanelli, arbitro di palacanestro e la fidanzata, la patinatrice Eleonora Cannarozzi, entrambi i 23 anni, entrambi di Motta di Livenza. Cannarozzi reagisce bene alle cure ma i medici non si sbilanciano su un suo possibile ritorno a camminare. Lorenzo invece continua a lottare per la vita all'ospedale di Udine. Le speranze sono ridotte, la situazione è stabile. Nella serata di lunedì i vigili del fuoco di Portogruaro erano poi intervenuti per una fuoriuscita stradale avvenuta in località Long Con, nel comune di Annone Veneto, proprio sulla statale 14 Triestina. Dall'auto le persone coinvolte sono uscite illese ma i pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza un palo della luce rimasto gravemente danneggiato. Non solo guasti alla rete elettrica a Oderzo, nella frazione di Colfrancui ad esempio ci sono varie famiglie che non riescono a ricevere bene il segnale della propria antenna su gran parte dei canali. giornate di lutto a Portogruaro, sono morti personaggi davvero eccellenti. Uno di questi è Mario Capitanio, storico avvocato, militante del Partito Comunista Italiano. Era stato anche consigliere comunale. I dettagli nel servizio. Grande dolore ha suscitato in tutta la città la notizia della scomparsa venuta all'età di 84 anni lunedì di Mario Capitanio, storico avvocato e militante della sinistra a Portogruaro. Notizia che vi abbiamo dato in anteprima assoluta nel telegiornale di ieri. Mario Capitanio è il terzo personaggio illustre che in una settimana muore in città dopo il negoziante di scarpe Sante Falcomer e Gino D'Agniolo, l'illuminato imprenditore che fu anche sindaco a Gruaro. Dei due sono stati celebrati i funerali oggi. Capitanio ha insegnato all'Ipsia Monsignor D'Alessi lingua inglese ma il suo sogno era l'attività forense che ha esercitato per decenni con successo. Compagno di lunga data, antifascista da sempre, è stato eletto consigliere comunale a Portogruaro nelle file del Partito Comunista Italiano nel 1970 quando la giunta era guidata dal sindaco Maganza. Poi nel 1975 la svolta a sinistra con l'elezione di sindaco Scaramuzza ma lui non fu più consigliere. Divenne negli anni 80 per due volte membro del direttivo della Fondazione Santa Cecilia. Capitanio lascia la moglie Luisa, i figli Marzia Guido e altri parenti tra cui il fratello Antonio, storico preside. Le offerte al funerale saranno devolute alla Fondazione Musicale Santa Cecilia e all'Associazione Benefica in Famiglia. Funerali molto partecipati. ASVO SPA ha avviato le procedure per l'individuazione di una graduatoria di personale in condizioni di disabilità. Se siete disabili dunque e volete lavorare ASVO dunque vi apre le porte per lo meno per un colloquio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà il 19 agosto 2021 alle ore 21 scusate il 19 agosto 2021 alle ore 12 ho invertito i numeri dell'orario. La sezione del Partito Democratico di Porto Gruaro verrà intitolata a un illustre consigliere regionale già compagno e protagonista della resistenza nel Porto Gruarese Il servizio Il circolo del Partito Democratico in Borgo Sant'Agnese da domenica verrà intitolato alla figura del partigiano ed ex consigliere regionale Aldo Camponogara La cerimonia avrà luogo alle 10.30 alla vigilia dell'anniversario della dipartita avvenuta nel 2020 all'età di 97 anni Camponogara era una figura carismatica e indimenticabile per la città di Porto Gruaro rispettata anche dagli avversari Saranno presenti i deputati Lia Quartapelle e Nicola Pellicani e il coordinatore del PD Andrea Martella già sottosegretario alla presidenza del Consiglio originario di Porto Gruaro La prima volta che Bertoncello vinse come sindaco nel 2004 eravamo assieme in Piazza Repubblica aveva le lacrime agli occhi ricorda con affetto l'amico Sergio Amorri Aldo era euforico e incontenibile Bertoncello era un suo allievo il prediletto Aldo era un comunista di una volta oggi per Camponogara non ci sarebbe spazio perché per lui al primo posto c'erano i valori civili l'amicizia la cultura Al via i primi lavori di sistemazione dell'area di 7000 metri quadri addivita a giardino botanico situata nei pressi della piscina comunale date in comodato gratuito dal comune di Porto Gruaro a Lions Club Porto Gruaro come informano i vertici del club grazie alla collaborazione di Lega Ambiente Veneto Alientale è stato redatto il censimento delle specie legnose ancora presenti del progetto originario risalente alla metà degli anni 80 restano circa 200 piante appartenenti a 60 specie arbore e arbustive spontanee in Italia in questi giorni sono iniziati i primi interventi di sistemazione consistenti nell'asportazione di una ventina di piante completamente rinsecchite e nella rimozione dell'area dei rovi e di altre piante invasive fortunatamente ancora allo stadio giovanile in autunno con condizioni maggiormente idonee si procederà alle potature della siepe perimetrale di acero campestre questi lavori rappresentano solo la prima fase di una serie di interventi volti a consentire la fruizione in sicurezza dell'area un bel bosco da frequentare ridando alla stessa la funzione didattica per cui era stata progettata il progetto è realizzato dal Lions Club Porto Gruaro con il contributo di Fondazione Comunità Santo Stefano Ollus di Porto Gruaro e rientra nei programmi per ricordare i 50 anni di fondazione del sodalizio lionistico portogruarese faccio gli auguri di pronta guarigione ad Antonio Rossi compagno di viaggio nella battaglia che ci ha visto prevalere per l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Rossi come sapete campione olimpico di Canò è stato colpito da un infarto mentre stava partecipando a una competizione podistica e ciclistica a Conegliano gli auguri sono del governatore della regione Veneto Luca Zaia tra l'altro Antonio Rossi che è ricoverato a Como oggi è sottosegretario allo sport per la regione Lombardia Porto Gruaro parliamo di calcio donne Rachele Minutello per le sue compagnie di squadra Minu ritornerà a indossare la maglia Granata dopo quasi 17 mesi di assenza domenica 25 agosto la cerimonia di intitolazione allo lungomare delle stelle 2021 a Jesolo premiata la pluricampionessa olimpica e mondiale Deborah Compagnoni stella negli anni 90 dello sci alpino femminile la scelta della celebre sciatrice non è casuale in vista del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi Invernali di Cortina-Milano il quintetto portegno domani giovedì 22 luglio alle ore 21 in piazza Treviso a Bibione prosegue le anteprime della 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica di Porto Gruaro organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia con la direzione artistica di Alessandro Taverna il quintetto portegno è formato da Nicola Minan alla Fisarmonica Nicola Mansuti al violino Roberto Colussi alla chitarra Alessandro Turchetta al contrabbasso Daniele Labelli al pianoforte e saranno impegnati in un immancabile omaggio ad Astor Piazzolla il celebre maestro di tango argentino di chiare origini italiane a 100 anni dalla nascita ed era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto io vi saluto vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale dopo il break e le previsioni del meteo grazie ancora arrivederci Giovedì tempo variabile a tratti instabili in montagna con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite più ampie dal pomeriggio in pianura nella notte al mattino saranno possibili precipitazioni sparse con qualche rovescio o temporale più probabili sulle zone interne della pianura e sulle zone montane nel pomeriggio le precipitazioni saranno in esaurimento in pianura mentre saranno ancora probabili sulle zone montane temperature minime in aumento e massime in calo in montagna valori senza sensibili variazioni o indire calo in pianura grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!